Buonasera telespettatori e ben ritrovati. Contagi e ricoveri da covid ancora in aumento in Piemonte. Nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 1700 casi di coronavirus. I ricoverati sono aumentati, ci sono 24 persone in più negli ospedali piemontesi, la maggior parte 21 in più rispetto all'ultima rilevazione nei reparti ordinari, 3 persone in più nelle terapie intensive dove sono in tutto 15, stiamo parlando dell'intera regione, i ricoverati. Nelle ultime 24 ore si è verificato anche un decesso ma la situazione resta sotto controllo e la campagna vaccinale prosegue velocemente. Ed ora parliamo dei problemi che stanno attanagliando l'agricoltura piemontese, in particolare della siccità e della popiglia japonica. Andiamo in provincia di Vercelli e Biella dove a lanciare il grido d'allarme col diretti. Siccità e anche popiglia japonica. I coltivatori diretti del nostro territorio in questo periodo devono fare i conti davvero con dei problemi enormi. Ci può fotografare la situazione di questo momento? Ma dunque a seconda delle zone dal punto di captazione delle acque ci sono problemi o meno di irrigazione dei territori. Quindi nella baraggia biellese e vercellese abbiamo alcune aree in cui si fa fatica a far arrivare l'acqua, come anche nel vercellese ci sono zone e parti in cui si è riusciti a gestire l'acqua seppur ridotta e quindi a irrigare, zone invece dove si fa un po' più di fatica a riuscire a sommergere e irrigare le risaie. Le colture cerealicole sono poi quelle con maggiori problematiche? Sì, fondamentalmente il core business di questa zona è il riso quindi quello che ha più problemi è sicuramente il riso anche se nelle zone anche a mais questo continuo periodo di non precipitazioni e irrigazioni ripetute può creare comunque delle perdite di produzione. Per quanto riguarda invece la zona alta dei vigneti e delle culture vegetali dell'orto? Ma diciamo nelle zone frutticole così e vitivinicole quest'anno non ci sono state delle gelate quindi ci sono dei raccolti magari un po' più limitati perché comunque la siccità incide non credo ci sia un'influenza particolare del clima sulle vigne anche se effettivamente qualche pioggia in più sarebbe stata utile ma al momento non ho grandi segnalazioni. Un'ultima domanda molto rapidamente, la popiglia invece è un altro grosso problema in questo momento. Ecco invece se parliamo di popiglia lì la zona più colpita appunto quella ortofrutticola, frutticola o vitivinicola perché è un insetto molto vorace soprattutto di piante da frutto e così come anche colpisce particolarmente le coltivazioni di soia e di mais. È un problema che ormai da dieci anni si sta ampliando su tutta la regione e che abbiamo segnalato più volte ma che bisognerebbe affrontare con più determinazione. Ed ora parliamo dei rischi della navigazione web per i giovani. Ecco un decalogo importante. Un viaggio alla scoperta delle nuove generazioni per avvicinare genitori e figli. In mezzo c'è quel mondo digitale sempre più abitato dai ragazzi, spesso lontano dalle frequenze di chi su quei ragazzi dovrebbe vigilare accompagnandogli nel loro percorso di crescita dentro e fuori la rete. Fondazione Carolina in collaborazione con Pepita Ollus presenta hashtag vacanze da genitori. Il decalogo è dedicato a tutti quei genitori che durante le vacanze proveranno a conoscere le abitudini digitali dei figli alternando ai social e alle app nuove esperienze e relazioni più autentiche. Se i lavoratori possono andare in ferie, chi ha il compito e la responsabilità di educare non può tirare in barca, a meno che non deleghi alla tratta digitale quel tempo assieme ai figli che durante tutto l'anno è più difficile ricavare. Si tratta di scegliere, dice in un'altra stampa il segretario generale di Fondazione Carolina Ivano Zoppi, tra inseguire, ricorrere ai nostri ragazzi o tornare a rappresentare una guida, un punto di riferimento attraverso l'ascolto e il buon esempio. Due condizioni necessarie per costruire quelle connessioni positive alla base del benessere dei minori anche online. Educare un impegno full time anche e soprattutto durante la bella stagione, ma resta sempre il lavoro più bello del mondo nonostante le difficoltà rappresentate dal gap generazionale. Una distanza alimentata da una tecnologia sempre più pervasiva alla quale i giovanissimi affidano tutta la loro vita esponendo la propria immagine, i dati personali e la propria intimità, senza filtri o limiti. È un vademe cummestivo, non senza ironia o leggerezza, ma che aiuta i genitori a preparare al meglio questo viaggio alla scoperta delle famiglie on-life. Vacanze da genitori è una campagna da seguire sui canali social di Fondazione Carolina lungo tutta l'estate 2022. Consigli pratici, materiali formativi, schede tecniche che si possono scaricare dal nuovo portale sul benessere digitale. Terre lontane, a bassa marea, inverti la rotta, fotosintesi, fuori porta, frangiflutti, alla deriva, acque sicure, immersioni familiari, arcipelaghi. Scendiamo dal trono, dice Rosanna Milone, coordinatrice dei progetti per Fondazione Carolina. Mettiamoci in discussione, smettiamo di giudicare e ricominciamo ad accompagnare. Facciamoci raccontare il mondo dai ragazzi e connettiamoci a nuove possibilità di condivisione, quella vera. Voltiamo a pagina e parliamo dell'iniziativa Progetta Con Noi. Progetta Con Noi è il nuovo servizio promosso dal Centro Servizi per il territorio Novara VCO. Si tratta di uno sportello permanente di coprogettazione dove il Centro Servizi mette a disposizione le competenze dei suoi operatori attraverso consulenze mirate per dare vita a progetti di particolare rilevanza per i territori. Le progettualità hanno riguardato prevalentemente gli ambiti della formazione e della promozione e conferma ancora una volta di quanto sia importante un volontariato qualificato e il sostegno delle iniziative promosse dalle associazioni. Ecco i progetti. Associazione Genitori Bambini Down Arona Mi Affido Percorso di formazione dei volontari per la gestione dei laboratori finalizzati alla pet therapy con i cani Gruppo Volontari Ambulanza del Vergante Nebbiuno Corso Autisti Mezzi di Soccorso Amici di Rosmini Domodossola Una rete di cuori e di opere Realizzazione di un sito web e materiale promozione per incontri con le scuole Pro Senectute Omenia ABC Digital Alfabetizzazione digitale per i volontari Contorno Viola Verbania Peer for You Un percorso di cittadinanza digitale Associazione Nazionale Carabinieri Verbania Donami un sorriso Formazione dei volontari dell'Associazione per la gestione dell'attività che si svolge con i cavalli Circolo Culturale Omo dei Zorini Arona Festeggiamo i 25 anni di attività Circolo Culturale Omo dei Zorini Arona 25 anni di attività Per organizzare l'evento di premiazione dei vincitori del Bando 2022 del Premio Letterario E favorire l'impegno dei giovani meritevoli nei primi passi verso il complesso ma stimolante mondo culturale Associazione Malati Alzheimer Novara Ollus 25 anni di attività anche per loro con iniziative di sensibilizzazione Con te, cureggio, ci vediamo a casa Tacchelli Avis Lesa Donare un gioco da ragazzi Per realizzare magliette con logo e gadget da distribuire in occasione di eventi sportivi Associazione per l'autismo Enrico Micheli Gli Asperger Rispondono Creazione di uno sportello virtuale Per offrire un supporto alle persone affette da Asperger Poi l'Associazione Mamma Parliamone Con la raccolta di disegni sul tema del dono Che grazie all'intervento di un cantastorie Diventeranno una storia realizzata per la pubblicazione Che verrà offerta ai sostenitori per raccogliere fondi Mimosa, amici del Diaco Oncologico Per realizzare un percorso formativo rivolto ai volontari Con l'obiettivo di rimotivarli Standardizzare le modalità di relazione con i pazienti, operatori e popolazione Noi come voi, gagliate per squisito Percorso formativo rivolto ai volontari Coinvolti nel progetto Open Bar Ed ora andiamo a Barallo Sesia Dove sono stati trovati i locali per ospitare la scuola Barolo Dopo le polemiche sono arrivate dunque le soluzioni Soluzione individuata per il prossimo anno scolastico Della scuola dell'artigianato del legno Scuola Barolo legata all'istituto Lancia di Borgo Sesia Il preside Carmelo Profetto Dopo aver cercato una sede appropriata per questa scuola Che quest'anno ripartirà con due classi La sede che era stata prospettata Sarebbe dovuta essere presso le scuole medie di Barallo Ma questo ha suscitato una reazione ostile Da parte degli insegnanti della scuola stessa E quindi è stato necessario individuare un'altra soluzione Visto che le aule presso l'istituto Formont Non erano più adeguate ad ospitare il numero aumentato di allievi Proprio in queste ultime ore è stata individuata come soluzione La sede dell'oratorio di Sottoriva Ossia il centro giovanile parrocchiale pastore Dove sono messe a disposizione della scuola Barolo Le aule al primo piano dell'edificio Sono in tutto cinque aule Di cui tre per i studenti Una per l'informatica E una per gli insegnanti Torniamo a Novara con le attività del centro studi Parliamo dell'iniziativa Quinta di Copertina Quinta di Copertina ha appassionato tutti Perché? Siamo riusciti a mettere insieme Tutti gli indirizzi dell'Accademia ACME di Novara È stato un momento intensivo Veramente molto intenso Dieci workshop, dieci laboratori Dove insieme al maestro Ivo Guzzon e di Vercelli Abbiamo unito due città Novara e Vercelli Dal punto di vista culturale Dal punto di vista artistico Ma la cosa bella Abbiamo unito 50 studenti Della nostra istituzione Questo è eccezionale Perché abbiamo anche letto Le relazioni dei ragazzi a fine progetto Ed è stato entusiasmante Capire che c'è proprio bisogno di queste attività Ci tengo a sottolineare Ma non come vezzo personale Ma come orgoglio Ecco, da insegnante, da docente Che è stata un'operazione unica in Italia Perché non è mai stata effettuata Quindi grazie alla generosità Anche del maestro Ivo Guzzon Che ha donato 50 volumi di Quinta di Copertina I ragazzi si sono dedicati In questi dieci incontri Proprio a realizzare la cucitura Sempre sotto, diciamo, il controllo di Ivo E del sottoscritto E poi a personalizzare il vestito di questi libri Cioè ognuno ha presentato in base al proprio indirizzo La propria ispirazione Per riuscire a realizzare questi libri È stata una cosa veramente eccezionale Perché ci siamo ritrovati libri realizzati Con copertine in acciaio In plexiglass In tessuto In legno Come è stato lavorare con i ragazzi? Magnifico Magnifico Un'esperienza unica, magnifica Anche perché non pensavo Io forse per primo A volte si critica i giovani Però non pensavo di avere così Un entusiasmo magnifico Tanti workshop Moltissima ricchezza, creatività E quindi unicità Penso proprio Senza il penso Proprio di sì Perché oltretutto Se mi permette Quinta di copertina In realtà quinta di copertina Non esiste Perché c'è la prima, seconda, terza, quarta La quinta di copertina Qui cade proprio il fagiolo Come si suol dire Perché sono i ragazzi Che hanno interpretato Secondo loro Il libro La copertina Ecco la quinta di copertina Dove è andata a cadere E sono stati veramente bravi Io e il professor Ghidelli Devo anche ammettere Che siamo stati anche un po' pazzi Perché ci siamo messi in un'avventura Che praticamente avevamo un libro Il resto non c'era niente La voglia L'amore per il libro Inteso sotto tutte le forme del libro Ma siamo riusciti a concludere Un percorso magnifico Lo sport si è conclusa con successo L'undicesima edizione Della Little League di Baseball Sentiamo Grande successo Per questa undicesima edizione Della Little League Sempre qua al Provini Dopo due anni di stop Si è tornati a giocare Con il grande baseball Finalmente tornano i grandi eventi Questo è un evento importante Ed è anche ormai una consuetudine Un evento importante sportivo Del baseball Dedicato agli Under 17 Con cinque nazioni presenti Il nostro Provini È stato fortemente rinnovato In queste settimane Avevamo promesso Un restyling Dell'impianto L'abbiamo fatto a tempi record È bello oggi Vederlo nuovamente vissuto E soprattutto È bello vedere a Novara Un grandissimo evento Di caratura internazionale Anche questo fa parte Ovviamente Di quel grosso progetto Che vogliamo portare avanti Di Novara Città Europea Dello Sport 2025 Ed è anche bello Che la Lega Baseball Ha sempre scelto Lo stadio Provini Tra tutti gli stadi italiani Assolutamente sì E questo perché L'impianto È perfetto Mi dicono che sia Uno dei migliori diamanti Presenti Sul nostro territorio Sono cinque le nazioni C'è Olanda Repubblica Ceca Italia Rappresentata Dal Lazio La Francia E l'Austria Sicuramente l'Italia Parte sempre Un po' avvantaggiata Rispetto agli altri Ma Solitamente Qualche sorpresa C'è durante il torneo Due anni fa Infatti aveva proprio Vinto la squadra italiana La squadra L'Emilia Romagna Sì sì Due anni fa Aveva vinto l'Emilia Romagna Allenata da mio amico Flisi Ed ora vi parliamo Di un'iniziativa Della Novara Che corre Una staffetta benefica Il cui ricavato È stato devoluto All'associazione Edo Smile Quest'anno Hanno chiesto a noi Di organizzare la staffetta Allora abbiamo pensato Di organizzare Una staffetta In stile torneo Infatti La gara Partirà con Due batterie La prima batteria Con le prime dieci squadre La seconda batteria Con altre dieci squadre E poi ci sarà la finale Con le migliori cinque Delle due batterie Abbiamo deciso Di devolvere tutto Come facciamo spesso A Edo Smile Perché comunque È un'associazione Con una finalità Con una finalità Onorevole Ci sembrava Doveroso Rinnovare il contributo A loro E nella staffetta finale È presente anche Edo Sì Nella staffetta finale Correrà anche Edo Insieme alla nostra Benedetta Detta Benni Una delle atlete Migliori Della nostra società Infatti Si sta allenando Per il Tour de Jean Con un Tour de Jean È già finito Alle spalle È espertissima In corse Spingendo carrozzine Perché ha già Partecipato a diverse Attività benefiche Con carrozzina Ed ora ascoltiamo Daniela Crepaldi Presidente di Edo Smile E poi il piccolo Edo E Lorenza Gamoletti Di Nonno Boy Associazione Anche Nonno Boy Associazione Collabora A questo bellissimo evento Un evento molto importante Perché tutto è ricavato Andrà all'associazione Edo Smile Questa volta siamo qua Come partecipanti Non come organizzatori Ma ben lieti Di essere presenti Con tre squadre Di correre Per portare in giro La nostra missione Che corre per i nostri bimbi Ma soprattutto Per aiutare Edo Smile È un'associazione A cui crediamo tantissimo E ben lieti Di darne una mano Edo Smile L'associazione è nata In 2017 Perché è due effetti Da sma Trofia muscolare spinale Ed è un servizio Novare Provincia Per tanti bambini Abbiamo in carico 11 famiglie E diamo servizio a domicilio A bimbi con disabilità gravi Dal fisioterapista Logopedista Alla neurosicomotricista Corri anche tu Sì corro anche io Mi raccomando Vinci Sì vinco Vinco Sarò una squadra forte È tutto Grazie per essere stati con noi Buon proseguimento di serata Con i nostri programmi Grazie a tutti